Allora, sono qui con Sergio Cappa e Silvio Maffioletti, autori del saggio Storia dell'Ottica. Allora, cosa possiamo dire agli ottici che troveranno in questo volume che avete realizzato anche con il contributo e la volontà di Mido? Troveremo la storia dell'Ottica dal 1200 alla nascita di Mido, cioè al 1970. Abbiamo pensato di chiudere il nostro volume con l'inizio di Mido perché con il 70 inizia la cronaca e finisce la storia. E quindi abbiamo, come dire, corredato tutte le storie che abbiamo inserito dentro lì con il contesto nel quale si verificavano. E quindi Galileo non è soltanto la vita di Galileo e le opere di Galileo, ma il momento politico, storico e religioso nel quale lui si è inserito. E così anche tutti gli altri, da Newton e anche chi è arrivato prima di lui, eccetera. Questo è quello che troveranno in 400 pagine. Silvio? Teniamo conto che l'ottica ha cambiato il modo di concepire se stesso degli uomini. La lente, la lente convessa, quando è stata inventata nel 300 dai veneziani e dai fiorentini, ha messo l'uomo in condizione di guardare il cielo, di capire che la Terra non era al centro dell'universo e di riconsiderare il modo con cui l'uomo si poneva all'interno dell'universo. Sempre la stessa lente positiva, nel giro di un certo tempo, ha portato al microscopio, alla scoperta della rivoluzione batterica e quindi delle malattie che falcidiavano le popolazioni e a consentire all'uomo di capire che non era uno, ma era fatto da tante piccole cellule. Quindi l'ottica, la lente convessa, ha cambiato la storia dell'umanità. E noi dobbiamo essere un po' più consapevoli di questo. Meraviglioso, direi. Grazie mille. Grazie davvero.